buongiorno ragazzi vi ricordo qualora vi facesse piacere di iscrivervi al canale di attivare la campanellina è tutto gratis complimenti a seven up per il nuovo logo visto che è piaciuto a tutti abbiamo fatto un luogo spettacolare da tanto ci stava lavorando grazie a seven up perché seven up è uno dei successi a parte del successo di questo canale insieme al team insieme a tutti seven up è nato con questo canale è stato uno dei fondatori insieme a me di questo canale piccioni criceti gente che ragiona gente che non ragiona abbiamo una chat whatsapp chi vuole entrare ecco qua scansiona scansiona entra nella nostra chat se sei educato e sai come rotola una palla ci puoi stare altrimenti verrai buttato fuori chi vuole entrare nella nostra chat whatsapp è un'idea di seven up di fare entrare un po tutti poi dopo vediamo cosa succede apriamo accesso libero a tutti nella whatsapp nel canale whatsapp degli esonerati che esiste da tanto tempo lo vogliamo un po' implementare siamo eravamo in circa duecento ora non lo so quanti siamo chi volesse entrare entrasse pure per quello che riguarda poi eh il calcio che è la cosa che ci interessa per quello che riguarda l'inter soprattutto arriva una partita ragazzi eh dove eh nella squadra avvezzare c'è un allenatore che a me piace tantissimo perché chi segue questo canale mi ha sempre sentito parlare bene di Tiago Motta da quando era allo Spezia quindi eh Tiago Motta per me io lo dicevo quando era allo Spezia e sarebbe diventato un grande allenatore e ad oggi lo è è già richiesto da da vari top club nel Bologna ci sono tanti giocatori che conosco bene tra cui Zizze se vi ricordate l'anno scorso prima di Inter Bologna dissi seguiamo con attenzione questo Zizze e ancora non aveva fatto gli sfracelli che ha fatto oggi ma perché bastava semplicemente guardare le partite del Bologna siccome a me Tiago Motta piace tantissimo come gioca perché gioca fondamentalmente senza entrare troppo nel tecnicismo eh la squadra di Tiago Motta gioca due tocchi e verticale due tocchi e verticale capito? Massimo due tocchi giocano verticale ed è e io gli voglio bene a Tiago Motta Tiago Motta è sempre stato anche all'Inter un calciatore che mi è piaciuto tra i centrocampisti più forti che ha avuto l'Inter secondo me anche perché me lo ricordo capellone al Barcellona quando dominava il centrocampo prima del grave infortunio quindi eh Zizze è un attaccante che riesce a pulire tutti i palloni fateci caso io non ho mai visto un attaccante fare una pulizia di palloni come fa lui lui cioè ripulisce delle palle non sporche di più è una cosa impressionante questo ragazzo perché parlai di Zizze? Perché sempre rapportandomi con Michele nella chat che sono i dati che saluto eh mentre parlavamo di questo ragazzo eh ovviamente dicevo ma questo regge già l'attacco del Bayern da eh scusami viene dal Bayern regge già l'attacco del Bologna non è solo ma di cosa stiamo ragionando? Ragazzo di vent'anni fuori classe fortissimo ad oggi imprendibile imprendibile costa cinquanta sessanta milioni per quaranta sembra che il Bayern abbia un'opzione comunque ragazzi eh Bologna ha degli ottimi giocatori tra cui Zizze Ferguson lo scozzese con il vizio del gol anche lui ha un novantanove o un duemila se non sbaglio giocatore molto molto interessante posh giocatore di qualità un play che non perde mai un pallone quindi capito è una squadra bella tosta un bel test questo per noi prima dell'Atletico Madrid anche perché poi alla fine Bologna è una squadra che gioca con spensieratezza tranquilla che che non che cerca di non buttare via un pallone cioè bravo Tiago bravo bravo Tiagone bravo e poi c'è anche i Calafiori che è interessante attenzione come giocatore eh attenzione a Calafiori sempre eh riguardo riguardo a Bologna sembra che Fabian gioi titolare quando io l'anno scorso mentre era la regina quando era la regina dissi questo ragazzo lo dobbiamo riportare a casa stamattina scrivono io che l'Inter lo vuole riportare a casa ma nel duemilaventicinque e sono totalmente d'accordo di riportarlo a casa nel duemilaventicinque soprattutto se prendi Zialischi nel duemilaventicinio ora al prossimo anno anche perché per come la vedo io sia Fabian e sia Carboni io su Valentin Carboni fu il primo a parlarne sempre l'anno scorso su YouTube quando fu convocato in nazionale con il fratello era in primavera dell'Inter ancora ma sia Carboni che Fabian secondo me hanno bisogno di un altro anno da titolari perché eh sia Fabian che Carboni non sono partiti titolari si stanno eh stanno diciamo stanno incominciando a giocare un attimino ora con continuità e a questi ragazzi farebbe benissimo confermarsi in un campionato a livello tattico molto competitivo come la Serie A per un attaccante come il Zizè serve un difensore come Acerbi ragazzi serve un difensore come Acerbi perché eh il ricciolone del Bologna è pericoloso ti ti va via viene giù c'è il gioco attaccante clamoroso un attaccante clamoroso Zizè clamoroso me se mi dicessi ad oggi prendi un attaccante prendo lui tutta la vita ma tutta la vita tecnicamente fortissimo destro sinistro testa assist eh come ho detto prima viene dietro qui c'è il gioco giocatore veramente forte forte contro il Bologna farei giocare io Darmian ti dico cosa farei io non solo l'allenatore ma farei giocare Darmian e Danfris contro l'Atletico Madrid di Marco uguale lo farei giocare contro il Bologna e terrei l'imperatore perché è il soprannome di Carlos Augusto per chi non lo sapesse terrei l'imperatore bello fresco contro per farlo giocare contro l'Atletico Madrid per quello riguarda Fabian un giocatore a me piace tantissimo cioè lui brilla per l'intensità difensiva e per la fisicità che rimette a mettere che riesce a mettere in campo per gli inserimenti questo ragazzo ha un timing incredibile lui sa già dove andrà la palla per quello fa anche tanti gol spesso li fa anche di testa è un giocatore poi con i piedi molto educati cioè un centroampista moderno Fabian che va riportato assolutissimamente a casa leggere stamattina un articolo non mi ricordo dove ho letto che l'Inter ha già in mente di riportarlo a casa nel 2025 mi rallegra perché Fabian sarà un futuro centroampista titolare della nazionale ne riparleremo come quando dicevo l'anno scorso che buongiorno diventerà titolare nazionale qualcuno mi prendeva in giro te te mi prendevi in giro buongiorno e buonasera ora l'ha visto dove buongiorno ti dico la stessa cosa di Fabian come ti ho detto sette mesi fa di Zizze che ancora non aveva fatto tutti questi gol e non aveva fatto vedere ancora quasi nulla Zizze sei sette mesi fa quindi movimenti senza palla intensità fase difensiva e vizzetto del gol Fabian è un giocatore da riportare assolutissimamente a casa ragazzi io non eh per quello riguardano poi le varie provocazioni gente che ride di qui gente che ride di là su altre cose giuse che ne pensi non ci voglio entrare per ora voglio il canale si è spostato da mesi ormai a parlare molto più di calcio la mia idea sulla proprietà la conoscete secondo me cambierà la proprietà poi se non cambierà verrò qui e vedrò perché non è cambiata e ne so ne parliamo insieme ma io rimango sempre della stessa idea però ora c'è una partita domani poi c'è l'Atletico Madrid queste cose mi divertono parlare poi di cose che di cui ne abbiamo parlato pertanto forse troppo tempo e poi cominciano a stancare parliamo di calcio che è la roba che ci appassiona e che non ci fa dormire la notte o che allo stesso tempo ci fa addormentare tranquilli come un bambino in braccio alla mamma ciao Vinter grazie a tutti grazie a tutti